Amici e amiche carissime, ben ritrovati, nuova puntata del ciclo di Catechesi La Madonna degli Iscritti di Maria Valtorta, siamo giunti alla puntata numero 49 e oggi con l'aiuto del Signore proseguiremo a vedere il titolo mariano di regina applicato questa sera agli apostoli, l'abbiamo già visto in genere e poi in particolare la volta scorsa nell'ultima puntata abbiamo visto il titolo di regina degli angeli questa sera c'è una lunga sezione dedicata al titolo di regina degli apostoli vedremo in particolare il racconto della Pentecoste secondo gli scritti di Maria Valtorta a cui evidentemente la Madonna era presente in veste di appunto di regina quindi di grande conoscitrice e amica dello Spirito Santo di cui è la castissima sposa e che ha introdotto, diciamo così, accompagnato gli apostoli a questa sua prima effusione se riusciamo a procedere diciamo anche in maniera abbastanza spedita vedremo anche lo splendido titolo regina delle vergini che è ancora più ampio di quello di regina degli apostoli perché davvero occupa una parte, una sezione molto molto lunga di questo testo e probabilmente ci vorrà anche più di qualche puntata io ricordo molto molto bene ci sarà una storia anche qui una delle storie più graziose dell'opera paragonabile a quella che abbiamo già visto a suo tempo con la grande mima convertita con la peccatrice Aglae che era stata appunto convertita dal Signore ma attraverso l'aiuto dell'azione apostolica bella ma discreta dell'apostolo Sant'Andrea bene, cominciamo la lettura del titolo regina degli apostoli tale la considerano tutti gli apostoli dopo la risurrezione di Cristo e in modo particolare nel giorno della Pentecoste subito dopo l'elezione di Maria scusate, subito dopo l'elezione di Mattia all'ufficio di apostolo in sostituzione di Giuda gli apostoli conducono Mattia a Maria che è raccolta in preghiera nella sua stanza perché anche dalla madre di Dio il novello apostolo riceva la parola di saluto e di elezione e anche per rendere omaggio a colei che più volte è chiamata regina degli apostoli questo si legge nel libro di Azzaria 7 aprile 12 maggio del 46 ma è particolarmente nel giorno della Pentecoste in occasione della discesa dello Spirito Santo che Maria Santissima appare nel cenacolo come regina degli apostoli nella sala del cenacolo ci sono soltanto i dodici sotto la direzione di Maria Santissima le finestre sono chiuse e sbarrate la Vergine seduta sola sul suo sedile ha sui lati, sui lettucci, Pietro e Giovanni alla destra Pietro alla sinistra Giovanni Mattia il novello apostolo è tra Giacomo d'Alfeo e il Taddeo davanti a lei la Madonna ha un cofano largo e basso di legno scuro, chiuso Maria è vestita di azzurro cupo ha sui capelli libero bianco e sopra questo il lembo del suo manto gli altri sono tutti a capo scoperto Maria legge lentamente a voce alta sul rotolo che ella tiene spiegato gli altri la seguono in silenzio meditando, ogni tanto rispondono se ne è il caso Maria è il viso trasfigurato da un sorriso estatico chissà cosa vede di così capace di accendere degli occhi come due stelle chiare e di arrossarle le guance d'avorio come se su lei si ripetesse una fiamma rosata è veramente la rosa mistica gli apostoli si sporgono in avanti stando un poco per sbieco per vederla in viso mentre così dolcemente sorride e legge e pare la sua voce un canto d'angelo e Pietro se ne commuove tanto che due lucciconi gli cascano dagli occhi e per un sentiero di rughe incise ai lati del suo naso scendono a perdersi nel cespuglio della barba brizzolata ma Giovanni riflette il sorriso virginale e si accende come lei di amore mentre segue col suo sguardo ciò che la Vergine legge sul rotolo e quando le porge un nuovo rotolo la guarda e le sorride la lettura è finita cessa la voce di Maria cessa il fruscio delle pergamene svolte e avvolte Maria si raccoglie un'orazione segreta congiungendo le mani sul petto e appoggiando il capo contro il cofano gli apostoli la imitano qui tocca necessariamente fare amici carissimi il primo pit stop chiamiamolo così perché c'è una scena veramente fantastica meravigliosa da contemplare ma al tempo stesso straordinariamente significativa vediamo come appunto Maria stava nel collegio apostolico questo è veramente cioè quello che oggi chiamiamo è come dire il collegio apostolico cioè il collegio episcopale si chiama oggi insomma dove c'è il Papa e tutti quanti i Vescovi allora i numeri erano un pochino più ristretti rispetto a quelli attuali insomma non so se i Vescovi sono forse 4500 in tutto il mondo più il Papa però lì c'era Pietro e con il collegio apostolico ricostituito attenzione quindi la Pentecoste è avvenuta dopo la ricostituzione del sacro collegio apostolico con il numero sacro 12 e penso che noi tutti quanti sappiamo che il libro dell'Apocalisse parla della donna vestita di sola di sole col suo capo una corona di 12 stelle no? ed anche nelle apparizioni celeberrime ultra riconosciute dalla chiesa insomma mariane che sono quelle di Rudy Bach a Parigi dove la Madonna fece il dono a tutta la chiesa e all'umanità intera della medaglia miracolosa sappiamo che nel retro della medaglia miracolosa c'è un monogramma mariano che si era inventato lei con la M incastonata dalla I sormontata dalla croce con sotto i sacri cuori di Gesù e di Maria e intorno le 12 stelle ancora chiaro che le 12 stelle evidentissimo rappresentano i 12 apostoli prefigurati nell'antico testamento dai 12 figli di Giacobbe da cui ebbero vita le 12 tribù di Israele ossia il popolo dell'antica alleanza noi sappiamo insomma che tra Israele e la chiesa c'è quello che tecnicamente viene chiamato un rapporto tipologico cioè ciò che Dio ha fatto nell'antico testamento secondo quanto scrive San Paolo rimane comunque irrevocabile anche se è come dire da considerarsi compiuto come sbocco naturale nel nuovo per cui oggi il nuovo popolo di Dio è la chiesa senza nessun dubbio con tutto il rispetto evidentemente per il popolo dell'antica alleanza che anche noi abbiamo 12 e 12 qui sono 12 e vedete che Maria sta qui in mezzo non come capito una presenza di messa quindi c'è Pietro che sta guidando il consenso apostolico e Maria se ne sta in un cantuccio come dire per carità un cantuccio pieno di onore però a pregare per gli apostoli o no la Madonna qui sta leggendo sta sfogliando i rotoli sta guidando la preghiera una preghiera altamente biblica se noi pensiamo per esempio quel brano che si trova nel libro di Esdra o di Nemia uno dei due dove per una giornata intera in occasione della ridedicazione del tempio grande festa per il popolo di Israele dopo la terribile devastazione dei babilonesi gli israeliti passano una giornata intera ad ascoltare la parola di Dio e la sua spiegazione in questo certamente superando molti tra noi cattolici insomma che ci annoiamo molto molto presto insomma nell'ascoltare la parola di Dio voi sapete insomma la chiesa auspica ormai da da oltre 50 anni insomma sono state diciamo poste le condizioni per tutto questo che che il popolo di Dio si ascolti alla parola la riforma liturgica il nuovo calendario ricchissimo d'accordo c'è tre cicli liturgici per le domeniche anno a anno b anno c si leggono tutti e tre i vangeli nelle messe feriali il doppio ciclo anni pari anni dispari così direi quasi tutto l'antico testamento tutti quanti i vangeli però a quello che ho che la mia percezione diciamo così anche di povero parro insomma di un piccolo centro insomma però un po' girato però c'è una certa fatica ancora nell'innamorarsi della parola di Dio capisco che specialmente per noi adesso su questo io mi ho venuto sempre di dire insomma che il popolo di Israele anche ai tempi di Maria e degli Apostoli ci da proprio come dire ci supera e purtroppo oggi noi cattolici siamo superati lo dico con tanta amarezza anche da vere e proprie sette in certi casi come sono i testimoni di Geova ma anche comunità che vengono dalla riforma protestante di vario genere penso per esempio agli evangelici o cose di questo genere che insomma passano ore e ore e ore insomma con la Bibbia in mano conoscono la Bibbia insomma limitata che c'hanno come dire i protestanti perché non hanno alcuni libri canonici la Bibbia deviata mal tradotta insomma che c'hanno i testimoni di Geova che è quasi neanche una Bibbia però molti di loro che magari stanno anche in buona fede certamente nell'errore in cui vivono però come dire per accident si direbbe San Tommaso sono un monico sono quasi come dire un jacuzzo a noi che magari insomma questa parola di Dio stiamo un po' ancora no? la mia esperienza insomma io ho sempre fatto in parrocchia sempre d'accordo da fin da quando ero ancora diacono gli incontri settimanali poi quindicinali poi mensili sulla parola di Dio insomma si trova anche online che chi va a vedere sul sito c'è stato tutto insomma abbiamo fatto tutta la Bibbia però sia da un punto di vista di riscontro come dire personale quindi di presenza fisica agli incontri sia anche voi io ho anche riscontri online insomma perché dal canale YouTube vedo le visualizzazioni sono sempre lo stesso insomma sono io che parlo sia che faccio un'omelia sia che faccio una catechesi sia che faccio un'adorazione una meditazione oppure un incontro biblico anche per esempio i riscontri per quanto riguarda le dirette anche questa catechesi sta andando in diretta su Facebook quando c'è la parola di Dio purtroppo c'è un po' un calo ecco allora spero che non sia colpa mia perché forse anche insomma che non sia buono lo strumento insomma quindi però c'è come una percezione insomma che ancora ancora non non ingranna non parte per esempio un'anima mariana deve cioè la Madonna viveva della parola di Dio adesso anche a prescindere cioè lei la conosceva a memoria quando l'Arcangelo Gabriere l'abbiamo visto le disse guarda che tu diventi la madre del Messia del figlio di Dio lei ha fatto un atto eroico nel dire il suo Fiat non solo credendo all'impossibile insomma infatti non è impossibile a Dio cioè che diventasse incinta proprio dello Spirito Santo e dello stesso Dio che si va a fare uomo insomma già credere questo insomma è tanto non solo facendo un grandissimo atto di abbandono perché che va succede come glielo diciamo alla gente che penserà San Giuseppe ma anche l'eroismo degli eroismi più grande anche ancora di questi primi due che sono già commensurabili la Madonna conosceva bene il profeta Esaia i quattro canti del servo di Yahweh ce li aveva stampati nella sua santissima testolina e nel suo cuore immacolato quindi dire sì significa che disponda io sarò la madre tutti questi dolori sono tutti quanti i miei dolori e lo sapeva benissimo la spada questo ce l'abbiamo trovato negli scritti di Maria Valtorta ma è pure attestato la spada non è una cosa che la Madonna ha conosciuto sul Calvario la spada ce l'ha avuta in fissa da quel Fiat e poi sul Calvario insomma si sono moltiplicate in milioni di spade ma quello stiletto infilato nel cuore la Madonna da allora ce l'ha avuta sempre perché però perché conosceva la Bibbia conosceva la Divina Parola qui sta in mezzo al collegio apostolico leggendo le scritture e gli apostoli attenzione silenzio d'accordo silenzio ascoltano e meritano Maria legge lentamente a voce alta gli altri la seguono in silenzio meditando ogni tanto rispondono se ne è il caso forse probabilmente qui c'è una nota vediamo se me la apro un attimo al volo allora qui Roschini nota nella nota appunto che è veramente un Alexio Divina letta ascoltata meditata con partecipazione attiva e Maria Santissima Madre della Chiesa ne è la maestra l'Alexio Divina tanto raccomandata anche oggi dalla Chiesa dai pastori della Chiesa insomma ma difficile fare entrare questa nella nel cuore del popolo di Dio dei fedeli però questa è sempre la prima cosa prima di tutto sempre cioè ordine gerarchico no cioè vedete anche noi questa sera stiamo facendo una catechesi un pochino particolare questa è una è una catechesi mariana certamente ma su un su un su un su su delle fonti diciamo così che sono operate tra le regolazioni private di una persona non canonizzata quindi a cui si deve semplicemente fede umana certamente qui c'è l'autorevolezza di un grande teologo che ha un grande mariologo del secolo scorso l'abbiamo detto tante volte insomma no che con la sua autorità come dire corrobora diciamo così l'autorevolezza di questi scritti che sono appunto lasciati alla libera adesione o almeno delle singole persone no però non sono le uniche cose che faccio le cose principali che ho sempre fatto da sempre io da quando sono ero addirittura alcune cose quando era ancora seminalista quello che era possibile ma diacono quotidianamente adorazione eucaristica e incontro sulla parola di Dio adorazione eucaristica e incontro sulla parola di Dio quindi cioè perché sempre prima come dire ciò che è principale e poi ciò che è secondario certo ciò che è secondario aiuta anche a comprendere meglio volte il principale e non è per questo da sottovalutare no però nella nella nostra vita ci deve essere come dire un ordine ecco qui la Madonna sta facendo l'alexio divina dinanzi agli apostoli e ne è con lei che la guida quindi è molto importante comprendere questa cosa no quindi poi il viso trasfigurato da un sorriso è statico e giustamente la valtorta ne sapeva neanche lei lei l'ha vista questa cosa ma se l'avessimo vista anche noi c'è che e che che starà a succedere che che vede che si sta frullando per la per la sua santissima e bellissima testolina che succede no forse chissà insomma proviamo a a sparare sapeva sentiva come imminente l'effusione dello spirito santo e sorrideva dicendo adesso questi uomini diventeranno uomini con la M con la U maiuscola diventeranno uomini divini sta per arrivare colui che conosco benissimo ormai è prossimo chissà insomma ed è bellissimo vedere anche gli apostoli che stanno un poco presbieco per vederla in viso mentre così dolcemente sorride e legge no beatico immaginiamo la voce di Maria beato a chi l'ha sentito il sorriso di Maria e la Madonna che legge la parola di Dio sorridendo io dico siamo troppo piccoli siamo poveri mortali insomma se uno avesse la possibilità insomma che il nostro Signore ci facesse questa grazia insomma lo diciamo San Paolo diceva sto per dire una pazzia ecco di aprirci uno squarcio diciamo così due minuti d'accordo queste cose nel libro di Dio sappiamo benissimo nel libro di Dio non c'è il tempo quindi questa questa immagine è scolpita nell'eternità quindi questa scena se Dio volesse da un attimo la potremmo vedere seduta stante d'accordo lui fa sempre bene quello che fa ed è bene che non la vediamo si intendiamoci insomma però penso che anche lui sorride insomma se qualcuno di noi ecco magari cerca di immaginarsi sogna questa scena perché questa è una scena completamente divina insomma va beh detto questo andiamo avanti un rombo fortissimo e armonico che ha del vento e dell'arpa che ha del canto umano e della voce di un organo perfetto risuona improvviso nel silenzio del mattino quindi Spirito Santo è disceso verso verso le nove è l'ora dello Spirito Santo le nove del mattino come ci ricorda l'inno per chi conosce un pochino la liturgia delle ore dell'ora terza si avvicina sempre più armonico e più forte ed empie delle sue vibrazioni la terra le propaga ed imprima la casa le pareti le soppelletti come dire approfondimento di quanto scritto nel secondo capitolo degli atti degli apostoli la fiamma del lampadario sien'allora immobile nella pace della stanza chiusa palpita come se un vento li investisse e le catenelle della lumiera tintinnano vibrando sotto l'onda di suono soprannaturale che le investe gli apostoli alzano il capo sbigottiti e come quel fragore bellissimo in cui sono tutte le note più belle che Dio abbia dato ai cieli e alla terra si fa sempre più vicino alcuni si alzano pronti a fuggire altri si riannicchiano al suolo coprendosi il capo con le mani nel manto o battendosi il petto domandando perdono al Signore altri ancora si stengono a Maria troppo spaventati per conservare quel ritegno verso la purissima che hanno sempre bellissimo questa questa scenetta no? solo Giovanni non si spaventa perché vede la pace luminosa di gioia che si accentua sul volto di Maria che alza il capo ancora sorridendo ad una cosa nota a lei sola e che poi scivola in ginocchio prendo le braccia e le due ali azzurre del suo manto così aperto si stendono su Pietro Giovanni che l'hanno imitata inginocchiandosi pure questa scena nostro Signore sicuramente ce la farà vedere sicuro se riusciremo a raggiungere il paradiso insomma questa ce la farà vedere no? quest'altra scenetta insomma di questa di nuovo ed è San Giovanni l'occhio l'occhio del discepolo per il letto l'occhio del discepolo vergine l'occhio di colui a cui la Madonna era stata affidata l'occhio dell'innamorato di Maria e dell'innamorato di Gesù il più bel complimento che si può fare a San Giovanni è l'innamorato di Gesù e di Maria se uno volesse dire in due parole a tutti quanti a tutti che significa essere santi innamorati innamorati di Gesù e di Maria ma innamorati veramente quindi quando uno è innamorato non è solo un fatto sentimentale d'accordo perché essere sentimentali chi di noi è stato innamorato l'ho detto tante volte insomma la prova che uno è innamorato è se fa follie quando uno è innamorato la prova è se si fanno follie e l'amore si dimostra con queste follie d'accordo follie o anche senza fare le follie cose grosse d'accordo cose significative d'accordo rinunce capacità di mettere l'altro al primo posto eccetera eccetera no ecco innamorati di Gesù di Maria San Giovanni lo era e quindi l'unico è rimasto tranquillo in mezzo stavano tutti quanti mezzi sconvolti diciamo che succede qua sto rombo sti suoni sto vento che è che è San Giovanni si gira guarda la Madonna dice lei non si è scomposta per niente anzi la pace luminosa di gioia ancora più accentuata allora dice se c'è la pace luminosa di gioia possiamo stare tranquilli e rimane tranquillo e poi ecco la luce il fuoco lo spirito santo entrare con un ultimo favore melodico in forma di globo lucentissimo ardentissimo nella stanza chiusa anche qui appare vero lingue come di fuoco no quindi un globo rosso senza che porto a finestra si sia mossa e rimanere librato per un attimo sul capo di Maria ha un tre palmi dalla sua testa che ora è scoperta perché Maria vedendo il fuoco paraclito ha alzato le braccia come per invocarlo e gentato indietro il capo con un grido di gioia e con un sorriso d'amore senza confini anche questa scena cioè questa sera non ce la posso fare vedere questa scena vedere questo gesto questo gesto di innamorata perché la Madonna è la sposa dello Spirito Santo e quindi mi è stata sempre ricolmata di grazia insomma ma se lo trova davanti in questo modo qui boom via in ginocchio le cade il velo e il mantello dal volto quindi si scopre la testa immaginiamo i capelli stupendissimi insomma della Madonna i capelli simili probabilmente a quelli di Gesù di quel biondo ramato insomma quel viso stupendo che aveva insomma gli occhi azzurrissimi quindi poi sorridente di un amore senza confini un grido di gioia anche questa è un'altra scena che speriamo che il nostro Signore se non siamo troppo cattivi a suo tempo ce la faccia vedere perché questa ringraziamo Maria Valtorta che è così brava nel descrivere le cose veramente ecco questa capacità descrittiva che aveva questa donna veramente straordinaria quindi certamente la visione è un'altra cosa ecco però tutti quanti questi piccoli particolari questo stile questo modo di scrivere che aveva questa nostra amata sorella certamente ci fa il regalo non dico di essere presenti però di di darci queste cose ma a che servono queste cose a niente a molto a seconda dei punti di vista a niente perché quello che è la Pentecoste lo sappiamo quello che è successo con la Pentecoste lo sappiamo a molto perché perché queste cose dovrebbero servire come dire appunto a fare un pochino crescere il nostro amore d'accordo perché l'innamorato brama conoscere di più e meglio l'oggetto del suo amore e quindi vediamo qui un pochettino di cose di questo genere non è che ci cambia che ci come dire che ci dà qualche cosa che la fede già non ci dia la fede ci dà già tutto insomma però ci fa conoscere qualche piccolo particolare che serve soltanto a far crescere un po' si spera il nostro amore e dopo quell'attimo in cui tutto il fuoco dello Spirito Santo tutto l'amore è raccolto sulla sua sposa il globo santissimo si scende in 13 fiamme canore e lucentissime di una luce che nessun paragone terreno può descrivere scende a baciare la fronte di ogni apostolo ma la fiamma che scende su Maria non è una lingua di fiamma dritta sulla fronte che bacia ma è una corona che abbraccia e cinge come un certo il capo virginale incoronando regina la figlia la madre la sposa di Dio l'incorruttibile vergine la tutta bella l'eterna amata e l'eterna fanciulla che nulla cosa può avvenire e in nulla colei che il dolore aveva invecchiata ma che è risorta nella gioia della risurrezione avendo in comune col figlio un accentuarsi di bellezza e di freschezza di carni di sguardi di vitalità avendone già un anticipo della bellezza del suo glorioso corpo assunto al cielo ad essere il fiore del paradiso anche qui impressionante la descrizione vedete tutti quanti con una lingua di fuoco che gli tocca la fronte e la madonna con una lingua che le incorona il capo e questa serie di titoli meravigliosi incoronando regina la figlia la madre e la sposa di Dio basta leggere la preghiera conclusiva che San Luigi Monfort scrive dalla coloncina di tutti i stelle ave Maria figlia di Dio padre la figlia madre di Dio figlio la madre sposa dello spirito santo figlia madre e sposa ma non è finito qui l'incorruttibile vergine con la V maiuscola la tutta bella la tutta pucra l'eterna amata bellissimi questi titoli veramente e l'eterna fanciulla una fanciulla molto molto sui generis la Madonna non è certamente una bambina nel senso l'eterna fanciulla è in senso evangelico d'accordo mentre la Madonna ci fa comprendere che cos'è quello che Gesù dice lasciate che i bambini vengono a me perché a chi è come loro appartiene al regno di Dio la Madonna c'è una sapienza insomma che nemmeno è il più come dire il più canuto e il più anziano degli esseri umani la la eguaglia no? ma è sempre una fanciulla è l'innocentissima la fanciullezza è il segno dell'innocenza no? dell'incapacità strutturale oserei dire di di malizia e l'eterna fanciullezza è anche l'eterna giovinezza dice invecchiata un po' nel dolore della risurrezione nel dolore della 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 passione ah ma adesso con la risurrezione si era l'ingiovanità di nuovo e quella freschezza di carni di sguardi di vitalità no? si accentuano ulteriormente in questo in questo momento quindi è importante contemplare nella tutta pura nella tutta santa anche questa perfezione umana esteriore esteriore cioè quello che noi vediamo per esempio del nostro del nostro corpo con tante nostre miserie le nostre imperfezioni i nostri difetti anche fisici le mortificazioni che che dobbiamo affrontare col passare degli anni quindi il nostro corpo che si disfa quando si quando si va oltre una certa età il metabolismo che si impazzisce e quindi si prende facilmente peso i capelli che cadono questo io non sono molto esperto insomma o che diventano bianchi insomma o poi le rughe quindi tutte quante le cose insomma che oggi in questo nostro mondo basato sull'immagine sono degli incubi no perché guai insomma ecco si fanno tutte quante fatiche su fatiche tutte le fatiche le fatiche fatte per conservare questa questa carcassa sappiamo bene insomma che non sono cose gradite all'altissimo no per accident però perché dobbiamo essere capaci anche sempre di cogliere quel qualcosa di positivo anche in ciò che magari tanto positivo non è no ma per accident che cosa dicono tutte queste cose qui questo nostro non accettare questa degradazione del nostro essere in realtà sono una forma di espressività non consapevole della nostra vocazione alla vita eterna all'incorruttibilità all'eterna giovinezza all'eterna bellezza o questo non vuol dire che sto autorizzando lifting d'accordo o liposuzioni o tinteggiamenti vari insomma o trapianti di capelli insomma però sto dicendo che anche in questa come dire ossessione perché oggi a questi livelli stiamo che queste cose provocano oggi ecco negli uomini tutti quanti tesi verso la terra limitati alla terra quindi se non esiste l'eterna giovinezza del paradiso io l'eterna giovinezza me la devo dare qua e quindi pure 80 anni vado a fare delle operazioni che poi 80 anni ci sono certi personaggi pubblici insomma che si diventa ridicoli si diventa perché per quanto siano bravi tutti quanti oggi i chirurgi estetici tutte queste cose qui cioè dopo si vede che è proprio una cosa appiccicata insomma quindi che si diventa ridicoli appunto noi accettiamo con amore io se mi posso permettere una piccola parentesi un po' da parro insomma da pastore il mio suggerimento quello a cui cerco di attenermi anch'io è per carità fermorestando un minimo di ordine nella nostra persona è una custodia di quello che possiamo custodire il pezzo si può controllare anzi si deve controllare per motivi di salute ma il resto le cose occidentali insomma le rughe il capello bianco o per i maschietti che a mio avviso sono piccole mortificazioni da offrire con gioia dicendo signore adesso mi devo sopportare ecco questo disfacimento insomma questa 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 degradazione del mio corpo che è il prezzo del peccato ma ma io credo fermissimamente che tutto questo non è altro che una parentesi che adesso posso addirittura valorizzare offrendola come come mortificazione ma in paradiso noi saremo tutti quanti belli come la madonna non come lei insomma perché un po' troppo però sicuramente sicuramente freschezza di carni freschezza di sguardi vitalità e cose di questo genere è questo sì e tanto di più quanto maggiormente in questa vita avremo assunto la conformazione che in Maria fu perfettissima con Cristo crocifisso allora terminiamo il racconto della Pentecoste con cui terminiamo anche questa puntata lo Spirito Santo rutina le sue fiamme intorno al capo dell'amata quindi non solo il certo ma il rutilare delle fiamme altra espressione stupenda no? quali parole le dirà ancora mistero il viso benedetto è trasfigurato di gioia soprannaturale e ride del sorriso dei serafini mentre delle lacrime beate sembrano diamanti giù per le gode della benedetta percosse come sono dalla luce dello Spirito Santo vedete altro pit stop il viso è trasfigurato di gioia soprannaturale e ride del sorriso dei serafini ed è la gioia stampata sul volto di Maria anche anche prima leggeva la Bibbia leggeva la sacra pagina ma leggeva questa sacra pagina come? col sorriso sul volto sorriso virginale bellissimo no? e qui ride del sorriso dei serafini trasfigurato di gioia soprannaturale e delle lacrime beate che sembrano diamanti non si piange solo di dolore le lacrime sono un dono meraviglioso non sono soltanto lacrime di dolore si piange di gioia si piange di amore si piange di struggimento si piange di gioia queste sono tutte piccole cose che queste piccole cose sono San Paolo preparate da Dio per coloro che lo amano fin da questa vita questo non solo per l'altra vita il fuoco rimane così per qualche tempo e poi di legua nella sua discesa resta ricordo una fragranza che nessun terrestre fiore può sprigionare il profumo del paradiso il profumo qui basti pensare a Padre Pio basti pensare ai profumi che accompagnano le apparizioni mariane soprattutto il profumo di rosa insomma no perché in paradiso c'è il profumo all'inferno c'è la puzza e tutte le puzze possibili immaginabili ecco ma in paradiso c'è il profumo perpetuo anche qui no in questo mondo purtroppo noi dobbiamo moltiplicare molte cure di noi stessi perché purtroppo gli odori non buoni se non facciamo attenzione sprigionano anche da questo corpo che porta purtroppo il peso il segno del peccato e anche questo lo dobbiamo offrire come mortificazione mortificazione in questo caso cercare di fare in modo che ecco questo non si fa quindi se io mi tengo un capello bianco va bene ecco però il decoro sempre la decenza nel tenere il nostro corpo nel fare in modo che non che ci sia sempre conservato una grandissima dignità e appunto decoro anche nel nostro esteriore quello sì ricordo insomma anche gli ordini religiosi che si sono insegniti diciamo così per un'estrema povertà povertà va bene ma pulizia candore dei luoghi della persona degli abiti impeccabile attenzione quindi ecco gli apostoli tornano loro stessi maria resta nella sua estasi soltanto si raccoglie le braccia sul petto chiude chiude gli occhi abbassa il capo continua il suo colloquio con Dio insensibile a tutto nessuno sa turbarla qui si vede qui si vede anche la profondità di preghiera della Madonna no un'immagine che prima non abbiamo approfondito quando la Madonna quando la Madonna finisce di leggere cessa il fruscio la Madonna si raccoglie in orazione segreta la preghiera profonda congiunge le mani sul petto immaginiamo quindi le mani giunte sul petto e appoggia il capo contro il cofano proprio il tipico atteggiamento di chi di chi si raccoglie in profonda preghiera se qualcuno ha imparato un pochino a pregare profondamente c'è proprio il bisogno come dire anche esteriore ecco di chiudere gli occhi di abbassare un pochino il capo e se si trova un punto di appoggio meglio ancora insomma no e qui lo stesso si raccoglie le braccia sul petto quindi probabilmente le mette con le storie stavolette adesso non so si vede insomma a forma di croce come tanti santi avevano chiude gli occhi abbassa il capo ancora una volta no quindi questa e continua il suo colloquio con Dio insensibile a tutto e nessuno osa turbarla quindi quando qualcuno prega non si disturba questo ricordiamolo sempre ogni tanto viene qualcuno a dirmi non fatelo mai per nessun motivo insomma a parte che qualcuno lo faceva lo ha fatto qualche volta anche con me ho fatto la comunione mi sono messo un pochino a pregare a un certo punto è venuto tizio e mi ha fatto toc toc con le dita sulle spalle non si fa quando una persona sta pregando non deve essere mai disturbata per nessun motivo a meno che certamente non ci sia una questione di vita o di morte si fa fuoco la chiesa o la casa che abbiamo insomma quello che sto dicendo no ma quando si sta in preghiera non bisogna mai disturbare chi sta pregando mai soprattutto i preti prete che prega non si disturba mi diceva sempre qualcuno ecco perché già i preti vabbè non la dico questa che stavo dicendo insomma quindi prete che prega non si disturba Giovanni accennandola dice l'altare sulla sua gloria si è posata alla gloria del Signore sì non turbiamo la sua gioia dice Pietro con soprannaturale impulsività ma andiamo a predicare il Signore e siano manifeste le sue opere e le sue parole fra i popoli andiamo andiamo lo spirito di Dio arde in me dice Giacomo di Alfeo e ci sprona ad agire tutti andiamo ad evangelizzare le genti escono come fossero spinti o attratti da un vento o da una forza cagliarte quindi attenzione e concludiamo non senza ragione Gesù stesso si è degnato dare alla Vergine il titolo di regina del sacerdozio del quale gli apostoli e i loro successori hanno la pianezza beati loro io non ce l'ho la pianezza del sacerdozio perché sono un sacerdote nel primo grado dell'ordine sacro quindi primo grado c'è il secondo grado dell'ordine sacro perché il primo è il diaconato ma il primo grado del sacerdozio che ne ha due appunto io non ho aspirazioni diciamo la verità vescovo non ci vorrei diventare mai ma mi piacerebbe avere la pienezza del sacerdozio senza essere vescovo però questa è un'idea un pochino ballerina insomma perché immagino immagino la bellezza insomma no come dire l'ulteriore come dire l'ulteriore dignità no soprannaturale potere che dà la pienezza del sacerdozio insomma amiamo sempre tanto punto primo il ministero dell'episcopato e punto secondo anche i nostri vescovi così come sono perché la pienezza del sacerdozio è una cosa grossa che comporta anche una grandissima responsabilità preghiamo sempre per loro e rimaniamo sempre evidentemente uniti in comunione gerarchica con tutti quanti coloro che della pienezza dell'ordine sono insegniti che hanno ricevuto dal signore appunto il mandato di pascere la sua chiesa come pastori e maestri ciascuno nella diocesi propria di competenza la Madonna è la regina del sacerdozio non perché sia una sacerdotessa attenzione così come non è una regina degli apostoli con perché 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 è una sorta di super apostola no la Madonna lo ama sui generis la Madonna è l'apostola degli apostoli insomma perché ha dato Gesù ma non ha predicato non ha amministrato i sacramenti quindi ho detto altre volte che c'è una corrente mariana molto interessante che non ho difficoltà alcuna insomma a dire che mi ci trovo molto sintonizzata che afferma l'esistenza in Maria di un di un tipo differente di sacerdozio noi sappiamo che la chiesa ci insegna che esiste il sacerdozio comune che è quello che avete tutti che viene conferito con il sacramento del battesimo il sacramento ministeriale che è riservato agli individui di sesso maschile lo era ieri lo era oggi e lo sarà sempre questo mettiamocelo bene in testa d'accordo anche perché San Giovanni Paolo II grazie a Dio ha chiuso la questione quindi nella chiesa cattolica la questione è chiusa e ha spiegato anche le motivazioni per questo è e la Madonna non è sacerdotessa in questo senso non lo può essere perché è una donna d'accordo non lo è la Madonna l'ha messa e non l'ha celebrata mai la Madonna a nessuno l'abbiamo sentita nel caso di Aglai ha detto io ti rimetto i peccati a nessuno ha detto devi andare da mio figlio io ti posso dire che come vedo la tua anima quello che è successo in te già è arrivato il perdono di Dio ma la soluzione te la da lui non te la posso dare io però certamente la Madonna ha come dire un sacerdozio perché la Madonna ha sofferto ha offerto dei sacrifici per noi che è un gesto tipicamente sacerdotale adesso non ne parliamo evidentemente in questa sera in questa sede qualcuno lo chiama sacerdozio appunto mistico che ce l'ha avuto soltanto lei è come la verità di fede cioè la controversa la verità di fede controversissima d'accordo che ancora divide i teologi della corredenzione il titolo di corredentrice se un giorno sarà definito nel senso stretto soltanto una Madonna può essere attribuita in senso stretto quindi è un'altra delle unicità delle tante unicità di questa prodigiosa creatura comunque ci sono altri discorsi però appunto Gesù le ha dato il titolo di regina del sacerdozio ecco è importante notare in questo senso bene ci aggiorniamo alla prossima puntata volevo per coloro che seguono le dirette annunciare tanto poi lo farò anche attraverso i social che credo proprio dalla settimana prossima probabilmente il martedì quest'anno sto cercando di diversificare ulteriormente insomma i tipi di interventi vorrei riprendere un pochino un po' di catechesi classiche d'accordo sui grandi argomenti della vita cristiana i sacramenti i comandamenti eccetera una sorta di aggiornamento a qualche anno dopo per riapprofondire alcune cose e per riproporle all'attenzione insomma perché si tratta di argomenti certo antichi ma sempre nuovi e sempre importantissimi che non possono mai andare in secondo in secondo piano quindi molto probabilmente l'appuntamento con la prossima diretta serale sarà per martedì prossimo con la prima di questo nuovo di questa nuova piccola avventura apostolica ecco in cui avverto che sembra insomma che il nostro signore voglia che mi impegni bene una santa notte a tutti alla prossima Dio vi benedica Ave Maria